Questo elaborato nasce da un interesse personale in merito alla traduzione e all'adattamento dei dialoghi delle opere cinetelevisive destinate al doppiaggio. Questo ha portato alla conseguente partecipazione a un master inerente all'argomento, che ha condotto ad un maggiore approfondimento a livello linguistico e tecnico, nonché all'apprendimento delle basi del mestiere e di cosa si cela dietro questo mondo. Inizialmente ho introdotto la traduzione audiovisiva, descrivendo le sue forme più comuni e gli elementi che la caratterizzano. In particolare mi sono concentrata sul doppiaggio, in quanto è la principale forma attraverso la quale vengono tradotte e adattate le opere filmiche in Italia. Essa è unica nel suo genere, poiché al suo interno si intrecciano vari codici. Fondamentale sono il codice linguistico, da ricordare che si tratta di un testo scritto per essere detto come se non fosse stato scritto, quello iconografico e quindi la corrispondenza tra il parlato e l'immagine, il codice dei tipi di inquadrature, importante dal punto di vista del sincronismo, e il codice paralinguistico, che include i segni tecnici nell'adattamento che indicano pause, fuoricampo e alcune reazioni. Il doppiaggio è definito un tipo di traduzione vincolante, specialmente per via del sincronismo articolatorio e paralinguistico, infatti il dialogo deve corrispondere con il movimento delle labbra e del corpo il più possibile, particolarmente nei primi e nei primissimi piani. Dopodiché ho delineato un ritratto della figura che si occupa di tradurre e adattare i dialoghi, ovvero il traduttore e l'adattatore dialoghista, che talvolta coincidono. Ho fatto luce sulle competenze che appartengono loro, mostrando inoltre il processo e il risultato finale di un test adattato, senza trascurare le dinamiche del settore e del mercato legate a questo contesto. Successivamente ho analizzato la lingua parlata usata nei prodotti cinetelevisivi rispetto al parlato spontaneo, con un particolare confronto tra il parlato originale, principalmente in inglese e poi in francese, e quello in italiano. Prima mi sono focalizzata sulle varie caratteristiche, evidenziando alcuni aspetti grammaticali e lessicali, fino ad arrivare alle varietà sociolinguistiche, dunque ho dimostrato la complessità nel trovare un corrispettivo sociolinguistico italiano attraverso alcuni esempi di rese traduttive. In seguito ho esposto l'evoluzione della censura cinetelevisiva nel corso degli anni in Italia, a partire dal periodo rigido del fascismo fino alla maggiore apertura mentale della società contemporanea. Inoltre ho presentato diversi esempi di censura e manipolazione applicata a vari temi tabù, quali i riferimenti sessuali, scatologici, religiosi e politici, il turpiloquio, la blasfemia e gli insulti etnico-raziali. Ad esempio analizziamo questo estratto da Full Metal Jacket di Stanley Kubrick nella scena dove il sergente Hartman rivolge il suo primo discorso alle reclute. Come si può notare solamente la parola niggers è stata tradotta letteralmente, gli altri insulti sono stati resi semplicemente con le nazionalità rispettive, probabilmente perché in Italia vi sono più insulti in relazione al nord e al sud. La cosiddetta n-word può essere utilizzata solo dalla comunità afroamericana per scherzare e prendersi in giro o sottolineare il senso di appartenenza a un gruppo. Il termine offensivo per gli italiani, WAP, deriva presumibilmente dall'espressione without papers per via degli immigrati italiani che mancavano spesso di documenti. In realtà corrisponde alla pronuncia inglese di guappo, termine che fa parte della cultura napoletana e siciliana e indica una persona arrogante e lissosa o coinvolta in un gruppo mafioso. Dopodiché ho esaminato i prodotti cine televisivi destinati ai giovani e in particolare agli adolescenti, paragonando le opere uscite tra gli anni 70 e 80, quando il mercato dei teen movies iniziò a prosperare, a quelle dei giorni nostri. In Italia vi è la tendenza a classificare questi prodotti come per tutti o vietati ai minori di 14 anni, che corrisponde al PG-13, in modo tale da raggiungere un pubblico più ampio. La legge numero 161 del 1962 regola la distribuzione dei film, i quali devono essere sottoposti al rilascio del nulla osta da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Affinché l'opera sia approvata è necessario presentare la lista dialoghi tradotta. Nel caso risulti vietata ai minori, si può presentare nuovamente l'opera, ma con modifiche e tagli di scene o di parti di dialogo. Infine, ho trattato un fattore essenziale del quale è necessario tener conto nel tradurre un'opera per adattarla in un'altra lingua. Sono gli elementi culturospesifici. Essi comprendono i riferimenti geografici, etnografici e sociopolitici. Ho esaminato alcuni esempi come prova delle soluzioni traduttive che si possono adottare. Si può ricorrere a dei prestiti, dei calchi, dei neologismi, delle spiegazioni o a delle generalizzazioni. Ed è inoltre possibile sostituire un elemento con un altro più noto nella cultura di destinazione. Si utilizza il modello dell'addomesticamento, più in favore dello spettatore e della cultura di arrivo o dello straniamento e quindi si deve fare un passo verso l'opera e la cultura di partenza. Osserviamo questo esempio tratto da Il raggio verde di Eric Romais. Il tabulé è un piatto piuttosto popolare in Francia a base di couscous preparato con diverse verdure. Nel doppiaggio italiano è stato scelto, couscous come traduzione, è un nome più generico, comprensibile per gli italiani e allo stesso tempo inerente al piatto in questione. Ho anche incluso i temi dell'umorismo e dei giochi di parole, i quali sono una sfida insidiosa e un'opera di creatività. In conclusione si evince che il processo della traduzione e dell'adattamento per il doppiaggio cinetelevisivo implica fattori, variabili e persone differenti, oltre al modo in cui la lingua parlata e quella del doppiaggio si plasmano a vicenda, condizionando i parlanti stessi. Si tratta di una traduzione vincolante, spesso soggetta a censura o manipolazioni, che deve adattarsi al mercato. Il cinema quindi ha portato a un'ampia penetrazione linguistica e culturale, dando origine a un nuovo tipo di traduzione, celato per la maggior parte dietro le quinte e ancora da scoprire veramente in tutte le sue sfaccettature.